buongiorno a tutti oggi è martedì 9 giugno e parliamo di analisi ciclica evoluta su bitcoin come era stato segnalato nella precedente analisi non è che abbiamo fatto questa grandissima spinta a rialzo ci abbiamo provato nella prima parte facendo un massimo a 9.888 in linea con il target che devo dato successivamente ci abbiamo riprovato ma abbiamo fatto 9.897 leggermente più alto e notate già che da qui abbiamo una divergenza ribassista di inversione ribassista altra vi faccio notare un'altra cosa questa che avevo segnalato è una bella divergenza rialzista che infatti ci ha portato a questo massimo quello della candela che vi ho appena fatto vedere ma che adesso cancello perché sennò ci dà poi troppo fastidio mette troppe cose nel grafico ricordate di tenere sempre i grafici molto puliti qui se notate dai 9.829 ai 9.897 abbiamo avuto massimi crescenti e qui invece abbiamo massimi decrescenti che possiamo anche allungare fino a qua e fino a qua per cui la divergenza è ribassista ecco perché abbiamo una candela rossa oggi ma poi visto anche tutto il dettaglio su quattro ore su due ore sul time frame a un'ora ma ok altra considerazione da fare da questo minimo è partito un secondo t settimanale secondo di questo t più uno che solitamente ne ha due e questo sarà del secondo che dovrebbe portarci alla chiusura non soltanto appunto di un semplice settimanale ma anche di un potenzialmente di un mensile perché siamo già arrivati a 30 barre su in media 32 e minimo 24 massimo 43 la condizione per la chiusura la condizione sufficiente per la chiusura di questo t più due mensile di bitcoin qual è molto molto semplice eccola qua la discesa sotto il minimo 9356 se oggi o domani ci andremo avremo la condizione minima per la chiusura ci avvicineremo come detto di nuovo alla media mobile a 50 periodi che in golden cross e che in questo momento passa attorno ai 9050 dollari e successivamente eventualmente con una bella divergenza potremo ripartire per salire e fare nuovi massi per cui anche per chi non mastica di ciclica è semplice capire quello che sto dicendo anche se per favore se non volete impararla non vi ci approcciate rischiate soltanto di prendere delle grosse cantonate di non capire che cosa sto dicendo per cui non venite a cercare delle scorciatoie per fare dei trader qui in questa analisi lasciate perdere o c'è impegno e volontà per imparare un metodo che vi renderà oltretutto autonomi non avete più bisogno di andare a cercare le news di capire che cosa è successo nulla sistema statistico matematico oppure lasciate perdere le mie analisi non ci venite neanche per sbaglio dare un'occhiata perché non capendole potreste criticare e oltretutto fare brutta figuolta che perdere dei soldi a parte questo come detto un t meno uno può durare anche soltanto tre giorni o quattro giorni nel massimo cinque per cui se andremo in violazione di questo minimo a 9356 potremmo anche spingerci un pochino più in basso e comunque avremmo già la condizione sufficiente per poi ripartire a rialzo ok oltretutto non potremmo andare a fare un t meno tre troppo lungo perché siamo già arrivati a sette giorni su massimo 11 di t settimanale e quindi con il minimo che faremo al massimo arriveremo appunto a quattro giorni di distanza da oggi però anche in questo caso sarebbero già troppi quattro giorni di distanza perché avremo 1 2 3 giorni già di t meno 1 e quindi dovrebbe perlomeno partire un nuovo t meno 1 prima che si vada a scendere e avremo un t a tre tempi ma questa è un'ipotesi secondaria per cui ritorniamo noi previsione discesa sotto questo livello e poi ripartenza discesa sotto i 9356 e poi ripartenza dopo eventualmente aver anche toccato in extremis se avrà voglia anche il livello della media mobile a 50 periodi questo è quanto d'accordo se l'analisi vi ha stimolato vi è piaciuta in qualche modo vi ha dato qualche cosa datemi una bella pacca sulla spalla ovvero mettete un bel like qui su trading view perché è importante che le persone imparino che ci si può muovere anche sulle cripto valute grazie ai sistemi di trading e metodi statistico matematici che permettono di evitare tante problematiche interpretazioni di notizie vi ringrazio per l'ascolto per me sarà una splendida giornata per chi si è deciso così e per voi